Hey, nothing you can say Cause he's gonna train what you've done to me Now it's time to shine I'm gonna take what's mine Guardarebbe quando mi faccio scoprire subito Non ammazzarne esu Elicottero unitato di battuglia C'è l'unicottero No, non ho sparato a nessuno eh, l'elicottero C'è attività ostile Mi metto nelle siepi E vediamo di mandare qualcosa C'è il cecchino C'è il cecchino C'è nessun altro Dove è l'assistente? Seguiamolo finchè non raggiunge il cerebro Seguiamolo Oh cazzo Doviamo prendere Bravo Dici Chi ha sparato? Stava andando via in auto Non dovevi neanche toccare nessuno Non dovevi neanche toccare nessuno Oh mio Dio State fermi, prendete una cazzo d'auto Figa il missero Figa il missero Vedo l'assistente Restate a distanza e soprattutto non uccidetelo Seguiamolo finchè non raggiunge il cerebro Non sale Non sale E' saluto A me lo da fermo No, da fermo S'è bagato Si è bagato Si è bagato Per me quando 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 si sente scoperto va via Io ho sparato un colpo Adesso si è mosso Però via 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 nascondetevi Stava andando verso di noi Stava andando verso di noi Eh il bomb Eh lo so Gli ho sparato un colpo da lì Voi lo fatevi scoprire E magari dopo si riprende Sì Stira qui al culo Bene Come cazzo è morto? Gli ho sparato in faccia Come cazzo è morto? Non possiamo farci scoprire Perché se guardano se gli vado addosso ciao edy missione fallita e te lo porto anche a casa non si è fatto cazzo per colpi di mortaglio non si è fatto niente ma scherziamo c'è slitta un casino sulla pioggia ooooh scusi scusi mi fai vedere il gathering e dice ok è tutto a posto e no proprio qua una roccia sempre in mezzo cazzo eccolo qua ci siamo fatti un cazzo? ci è esploso in faccia e non ci si è fatti un cazzo fermo io è esploso quello davanti ma è ancora vivo? no 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 finita l'ho marcato via prima che esploda droga rese grande che cazzo hai fatto questo porca puttana ancora eh? voglio vedere soprattutto se è decente pks ehm fa cagare fa cagare ma almeno mira più lontano è possibile cambiarlo 4.5 eh di zoom di certo meglio di quello che avevo prima oh qui c'è cibo l'ha dato 500 sì sì l'ho già preso io sì l'ho già preso io non ok sì certo sì 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 F***a, oh, va velocissimo quel coso. Dove credi di andare? Fermate. Esce a mirare il conducente? Fermo, fermo. Fermo, 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 fermo. È sceso, è sceso, è sceso, non sparare. S'ha reso. 5.000, eh? Orca puttana. S'era reso. Come se con cazzo che non muoio. Buongiorno. Tranquilli, siamo un furgoncino sopra con una mitragliatrice come voi. Quanto pare si sono i sospettiti. Buono. Mira, mira, i conducenti. Fermo, 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 è sceso. Ah, mi stanno uccidendo. Da destra, da destra. Però me l'ha data. 5.000. Abbiamo fatto andare via un altro furgone. Scusate, ce ne date un altro. Porca puttana. Che cosa stracazzo è successo? Vada giù nel burrone, lei. Si sono già resi. Ammazza. Ammazza quel furgone. Il furgone è a sinistra. Fallo esplodere. Come la scorta è stata distrutta? E qui la scorta. Il bersaglio è salito su un veicolo. Arriba in marcia, ci stanno arrivando i nemici. Oh merda, una granata. Il furgone radio è nostro. Stanno arrivando gli uomini di Catari a prendersi la roba. Bastardo, ma cosa hai investito? Esso a te. Un altro furgone è semiandato. Vediamo quanti proiettili servivano. È resistente. Non va giù. Ma perché tolgo il silenziatore? Che ho il silenziatore avanzato. Bacco. Eh. Resiste comunque. Buongiorno. Ma vado via. Quello davanti, magari. È esploso qualcosa? Eh. No. Ecco, quello che mi serve, ma siamo morti. Non so perché ci sei andato contro. Però invece di regolo lì, ma non è che è esploso per quello. Ci stava comunque sparando. E ci sta arrivando addosso. Proprio qui dentro. Porca puttana. Devi scendere. Porca puttana. A parte che l'hai fatto esplodere. Eh, bomba. Ah, va. BAM! Porca puttana. Porca puttana. E... Bravi, fermatevi, fermatevi. Pezzo di merda, ti ho detto fermati. Abbiamo il furgone radio. Inviamo le coordinate dell'attrezzatura ai ribelli. Ehi, questo qui è ancora in ricerca, bastardo. Cosa tentava di distruggermi con questo furgoncino? Ma, ma passa. Ma per favore. Guarda il lava che sputa! Guarda il lava che sputa! Guarda il bambino giochiere! Guarda che cazzo! Ma quanto sputa? Oh, fermate! Oh, vacca di... Oh, che cazzo! Mi sta sputando in faccia. Ehi. Sputacchiata! Non si può neanche ammattare. Che cazzo fai? Perché non è lì. Vedi che muore. Vedi, vedi che muore. Oh, la madonna! È immortale! L'ama è sacro! È sacro! Esplosa una macchina, ma lui non può. Va bene. Oh, fermo! Porca! Questa... Vabbè, è ancora vivo. Ma come? Grazie per aver seguito il video. Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi qui sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! No! Ciao! 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 Grazie a tutti.